Il Premier c'è, il Governo no. Kamal Al-Ghanzuri dice che ci vorrà tempo per scegliere i ministri, si è detto aperto a suggerimenti e qualche chiaro è che non sarà facile comporre un Governo che accontenti le varie anime della piazza, ha comunque voluto rassicurare. Voglio confermare che la decisione del Consiglio militare di formare il Governo include la concessione all'esecutivo di poteri molto più ampi di prima, ha detto parlando di fronte la sede del Consiglio militare, non quella del Governo, perché nel frattempo migliaia di manifestanti ne avevano bloccato l'accesso. La distanza tra la piazza e del Ghanzuri non è solo generazionale, il neopremio era 78 anni, ma è anche dovuta al fatto che ricoprì lo stesso incarico nel 96 sotto Mubarak. All'economista formato negli States viene riconosciuto il merito di aver risanato le finanze in una fase difficile e di essere rimasto immune alla corruzione del regime. A renderlo un po' più simpatico alla piazza contribuiscono le pesanti critiche che gli rivolse lo stesso Mubarak. È comunque l'unica opzione possibile per un governo di transizione. Il posto da premier era stato offerto anche a personalità del calibro di El Baradei, che ha rifiutato nel timore di discreditarsi di fronte alla piazza e bruciare quindi le proprie ambizioni presidenziali.